Nella lista di chi ci sta sul cazzo ci sono anche tutti quei gestori di bar, pub, locali, dove la birra, porco Dio, costa più di un'ora di lavoro e poi viene pagata 5, 4, 6, 7, a Milano ti fanno pagare una birra a 7 euro, se ne vanno a fare il culo, va? No, no, no Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. C'era qualcuno che gli ricordava magari la mattina andandoli a trovare quando se ne aspettavano che forse camminando zoppi tutta la vita forse potevano ricordarsi che a fare le merde bisogna pagare il conto prima o poi. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.